La tua vita è troppo tranquilla? Le tue nottate sono troppo tranquille? Tu sei troppo tranquillo? Beh, aspetta là che adesso ti suggerisco qualche lettura per non dormire la notte. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E se venite più vicino, oggi ci spaventiamo insieme per una cosa importante. Ho deciso di prendere quattro letture, che poi non so più quattro, ma sono diventate una, due, tre, quattro, cinque. Sono diventate cinque. Cinque letture che possano terrorizzarvi. Quindi letture piuttosto variegate, quindi che possano interessare chi legge solo fumetto orientale, chi legge fumetto italiano, chi legge fumetto colto, chi legge fumetto lungo. Vabbè, questa era terribile. Ma andiamo avanti, andiamo a presentarle rigorosamente in ordine decrescente di grandezza, così non vi spoilerò troppo quelle che stanno sotto. Per primo, un volume che non è unico, ce ne sono due, questo qua è il primo in realtà, di Luca Conca e Gloria Ciapponi. E' uscito da un po', questo è vero, ma Urlo nel buio, è un cartonato in bel grande formato, edito da Salda Press, costa 19,90€, ed è molto molto particolare. Perché, beh, perché quando ne ho parlato la prima volta sul canale, l'ho definita veramente una rincorsa. Una rincorsa perché, beh, questo fumetto non ha un balloon, nulla. È una storia agghiacciante, veramente di... no, ce l'ha uno, eccolo qui, di una rincorsa all'interno della foresta. Vi sentirete letteralmente braccati all'interno di questo urlo, tanto appunto da voler urlare. C'è anche il secondo, che vi consiglio allo stesso modo, ma è veramente una storia con disegni incredibili, ma soprattutto con un'atmosfera che non ti dà respiro. Veramente, se non volete dormire la notte, questa è una delle letture più consigliate. Poi, come non parlare degli adattamenti? Io in questo caso ho recuperato questo che è bellissimo. Non potevo non recuperarlo, perché c'era un altro in formato più piccolo, bellissimo uguale, ma troppo piccolo per essere goduto appieno. Le Montagne e la Follia di Lovecraft, adattate da Gutanabe. L'adattamento, ovviamente, è anche il disegno da parte di Gutanabe. Sono un'opera imprescindibile per chi ama l'horror e la paura a tutti gli effetti, psicologica e visiva. E, diciamo, da chi ha letto, io non l'ho letto, Le Montagne della Follia, mi dice che è anche un adattamento decisamente corrispondente a quella che poi è l'atmosfera del libro di Lovecraft. Questo, in particolare, è un bel tomo, costa 30 euro, volume unico, ma è veramente bello, è veramente da libreria. Un'altra opera che, se amate, non tanto l'horror, quanto appunto quel sentimento che ti viene fuori di... Uff, è ottimo. È veramente, è veramente ottimo. Poi è una lettura abbastanza lunga, eh, io non vi consiglio di farla tutta quanta d'un fiato perché è veramente, è veramente ostico. Bello, mi è piaciuto moltissimo. Per cambiare, ancora una volta, stile, in modo tale che tutti quanti possano avere il loro racconto horror preferito, come non parlare... racconto di paura preferito... Come non parlare di Something is Killing the Children, che a brevissimo avrà anche una sua trasposizione in live action, quindi in serial tv. La storia di Tainon IV, disegnata da Werther dell'Ethera, con i colori di Miguel Muerto, è quanto di più comics e al tempo stesso, comics nel senso definito come fumetto americano, e al tempo stesso ha uno stile molto molto europeo per quanto riguarda l'angoscia e la profondità della trama. È molto bello, come vedete, ha anche un bel po' di balloon quando ci serve di fare degli spiegoni, ma al contempo ha un aspetto grafico, uno stile grafico, che cambia in continuazione. Werther dell'Ethera ha fatto un lavoro encomiabile, sotto tutti i punti di vista, nel trasferire le idee di Tainon IV, che di suo è un vulcano di idee, su carta e disegnarle. Bello! Siamo al quinto volume, è uscito anche il primo volume del suo spin-off, ogni volume costa 15 euro edizione db, quindi io questo qua ve lo consiglio moltissimo, se non l'avete preso. E cambiamo completamente stile, ancora una volta cambiamo stile, e andiamo in casa alle Vietan Labs. Torniamo in Italia, Rosy e Coppola firmano questo Vietnam Horror, un prodotto da 15 euro, un brossurato a colori, un brossurato in bianco e nero, scusate, sono confuso, in cui si parla di un'esperienza abbastanza particolare, abbastanza fuori dal normale, paranormale, appunto, di un gruppo di Yankee, distanza in Vietnam, durante appunto la guerra del Vietnam. Un racconto particolarissimo, con disegni bellissimi, che rendono appunto l'idea della Bolgia, che era la guerra del Vietnam, e rendono anche l'idea di quanto fosse complicato portarla avanti, sia da parte degli americani, che subivano gli ordini da parte dei generali, e che da parte dei local, che comunque appunto la subivano a tutti gli effetti. Un horror sia psicologico, ma soprattutto un racconto che genera un'inquietudine particolare, anche perché ti ricorda, appunto, uno dei momenti più tristi della storia recente occidentale. Restiamo, restiamo in quelle zone, ce ne andiamo nelle Filippine, dove Baggettan e Caio Baldissimo firmano Tres. Tres è un... sono in realtà una serie di racconti, di racconti, che parlano di horror, di paura, ma anche di miti orrorifici, appunto, filippini. È molto bello il primo volume, molto innovativo, decisamente fuori dal comune, inaspettato. Sono arrivati, mi pare, al quinto volume, io ho i primi quattro. Gli altri, purtroppo, essendo successivi, lo schema di come è costruito è stato conosciuto nel primo volume, quindi sono meno effetto wow, però comunque importanti. si parla di questa Tres, che è una poliziotta del paranormale, figlia d'arte, che va a risolvere casi particolari, casi, diciamo, definiti quasi tribali, in quei luoghi in cui tutti quanti i miti, i miti filippini, vengono a definirsi. È interessante come cosa questa qui. e succede questo. Succede che, in pratica, ogni volta che finisce un racconto, noi abbiamo un approfondimento sul mito di quel racconto, che è stato protagonista di quel racconto. Una storia assolutamente verticale per ogni capitolo, ma con una sua orizzontalità, cioè con una trama comune un po' a tutti quanti, che è appunto questa Tres. e piano piano riusciremo anche a capire la sua storia, eccetera. È interessante. Io vi consiglio di dargli un occhio. È un brossurato, ha la sovracoperta, costa 8,90. Oddio, coi nuovi prezzi Star Comics, non so se li hanno aumentati. Infine, per chi legge solo manga, ho scelto questo, Girl from the Other Side. Su tanti fumetti di paura, il racconto di Nagab è quello che mi ha colpito di più. Io ho letto soltanto i primi tre volumi, non sono andato avanti, per motivi strettamente di tempo, di problemi di lettura, ma è un racconto di un inquiettante pazzesco, perché parla di questa ragazzina, di questa ragazzina che è accudita da questo maestro, che in realtà è uno spirito delle tenebre, che potrebbe trasformarla in qualcosa di particolare, non mi ricordo bene com'era la cosa, ma decide di non farlo. E decide oltretutto di porsi in modo molto forte contro quelli che rappresentano la sua stessa razza che vorrebbero prendere la ragazzina. All'interno di tutto quanto questo qua c'è che loro due abitano da soli nella foresta. Essi troveranno a scontrarsi sia con gli uomini comuni, che però hanno conosciuto questa malattia, questa forma degenerativa, non ho ben capito perché nel terzo volume ancora non si capisce, che trasforma gli uomini in questa specie di mostri, di demoni, e che quindi vedono di malocchio questa ragazzina che vive con questo maestro, che lei chiama maestro. Dall'altro lato, il maestro è visto di malocchio dei suoi simili perché appunto accudisce la ragazzina. Quindi sono due pari, per entrambi gli schieramenti, fra virgolette, e vivono all'interno della foresta, che racchiude da un lato la città, quella che è vicino, il paese che è vicino, che non la vuole fra i piedi. Dall'altro lato, questi spiriti maledetti, che appunto desiderano invece possedere l'anima e il corpo di questa ragazzina. Assolutamente inquietante. e poi c'è un disegno che nonostante è molto molto semplice, molto, guardate qui, è assolutamente elementare, però crea quell'atmosfera giusta, anche perché in alcuni tratti diventa molto più organizzato, molto più descrittivo, molto più, molto meno sbrigativo. Bello, anche questo qua, ve lo consiglio, perché è una bella lettura, 6,50€, ovviamente non è per tutti, bollino rosso, da parte di J-pop. Quindi, cinque letture che possono essere interessanti se volete passare una notte insonne, o anche più notti, visto che, diciamo che questo qua, non so quanti volumi sono, trese ancora in corso, questo qui è volume unico, questo qui è ancora in corso, ma ci sono già sei volumi usciti, cinque più lo spin-off, questi ce ne sono tanti, Godanam ne ha adattati tanti di racconti Lovecraft, scegliete questo formato, e di urlo, mi pare che ne siano usciti due. Noi, ragazzi, ci leggiamo qua sotto nei commenti, voglio sapere un po' la vostra, su questi in particolare, su questi fumetti che ho scelto per voi in particolare, e voglio sapere se li avete letti, se non li avete letti, come li avete trovati, se ne avete altri. Suggeritemi qua sotto, altri, che non siano prettamente horror. Cioè, l'horror è effettivamente, alcuni ci rientrano un po', altri ci rientrano meno, nei canoni dell'horror, che siano inquietanti, psicologicamente provanti. Che bella lettura. Ciao belli.